Una figura antica ma portatrice di valori attualissimi, il libro di Nino Daniele, il daimon comico, filosofia e storia di Pulcinella, patrimonio dell'umanità, ha acceso il confronto organizzato presso la casa del popolo di Ercolano, sulla maschera che meglio rappresenta Napoli e al centro del dibattito dopo l'installazione della scultura di Gaetano Pesce a piazza Municipio. Ascoltiamo l'autore. È un elemento identificativo molto importante ed esprime una serie di valori che secondo me sono attualissimi. Pulcinella è l'irriverenza e l'irrisione del potere, della sua seriosità e della sua volontà di dominio, per esempio. Una figura che rappresenta Napoli nel bene e nel male, spiega Gianluca Daniele, segretario generale SLCCGL Napoli e Campania. Io credo che in fondo la figura di Pulcinella abbia anche, da questo punto di vista, un significato un po' scaramantico, apotropaico, per cui io credo che voglio dire che in questa discussione viene bene anche la scultura di Gaetano Pesce e anche tutta la discussione che c'è stata. È d'accordo anche Bernardo Impegno, filosofo e attualmente membro della segreteria provinciale del PD. Tra l'altro Daniele ha una straordinaria capacità di preveggenza, perché ha scritto questo libro senza sapere che si fosse l'installazione di pesce su Pulcinella. Al dibattito hanno partecipato l'attrice Nunzia Schiano, Umberto Cristadoro, presidente della Clinapoli, Tonino Liberti, presidente della Casa del Popolo di Ercolano, Alfonso Trappuzzano e Giovanni Chianese, vicepresidente e membro del direttivo dell'Associazione Culturale Mercurio, che ha promosso l'iniziativa moderata dalla giornalista Italia Mele assieme alla Casa del Popolo di Ercolano.